bc batteries azienda italianissima che da oltre 12 anni è impegnata nella produzione di accessori e attrezzatura automotive e in particolare di booster batterie carica batterie mantenitori e stabilizzatori presenta x pro ovvero una linea di carica batterie professionali 12 volt da 36 60 e 130 ampere ora a chi è indirizzato a tutti quegli showroom o dealer automotive multimarca oppure a quelle officine in particolare il 130 ampere che lavorano con marchi tedeschi ovvero bmw mercedes audi woswagen e porsche ma quali sono le caratteristiche principali intanto è un prodotto ultra piatto pensate soltanto 10 centimetri di altezza e quindi può essere facilmente posizionato sotto a qualsiasi tipo di vettura poi ultra versatile perché può lavorare con batterie o con bancali di batterie pensate da 1,2 ampere ora fino a 1300 ampere poi prodotto ultra immediato molto facile nell'utilizzo e infine può essere utilizzato con qualsiasi tipo di batteria trazione avviamento anche litio ma adesso andiamo ad analizzare le varie caratteristiche di questo prodotto lo abbiamo detto intanto carica batterie e mantenitore il 130 x pro ci permette di selezionare la corrente di carica da 1 ampere fino a 130 e poi di selezionare il tipo di batteria ovviamente l'abbiamo detto batterie d'avviamento o da trazione coprendole praticamente tutte infatti andiamo dalla standard mf poi agm calcio calcio litium e anche start and stop seconda caratteristica ma non meno importante il nostro prodotto funziona da alimentatore e da stabilizzatore di tensione caratteristica fondamentale quando andiamo a parlare di aggiornamenti riprogrammazione diagnosi o manutenzione in vettura ecco il nostro prodotto l'X pro 130 ci permette di selezionare la tensione di alimentazione da 12,8 volt fino a 14,8 ma non è finita perché il nostro prodotto ci permette di avere il massimo della corrente per un tempo indeterminato e infine la funzione showroom che mi permette di avere lo spegnimento automatico del prodotto con passaggio a stand by quando non la rete e riattivazione al mattino quando vado a dare corrente questo mantenendo tutti i parametri in memoria banalmente la sera esco dall'officina tolgo il quadro lui va in stand by alla mattina arriviamo di nuovo in officina riattiviamo le luci riparte mantenendo tutti i parametri in memoria ed ora per capire meglio addentriamoci nella carica batteria ovvero carica primaria off in questo caso dobbiamo selezionarlo per accenderlo parte la carica primaria ovviamente quando avrà terminato gli 11 cicli di cui abbiamo parlato apparirà la scritta mantenimento parte alta sinistra carica appunto perché sta lavorando come carica e non come mantenitore litio la batteria il tipo di batteria selezionato e poi 10 ampere perché l'abbiamo detto consigliamo circa il 10 per cento della capacità reale quindi in questo caso avevamo una 100 ampere quindi selezioniamo 10 e poi nella parte più bassa invece tutti i valori che stanno che sono coinvolti in questo momento quindi 9,3 ampere quindi gli ampere che stanno entrando in questo momento in batteria perché lavoriamo a impulsi e non corrente costante quindi è leggermente inferiore dal valore nominale poi 13,2 è la tensione il voltaggio in questo caso coinvolto 0,9 ampere ora l'energia inserita e poi in basso a destra invece troviamo il tempo di lavoro e prima di lasciarvi alle ultime due caratteristiche una piccola guida acquisto ovvero per chi sono pensati questi prodotti partiamo dal x pro 36 è pensato per chi vuole un ottimo caricabatterie mantenitore per showroom oppure officine ma non punta alla riprogrammazione delle centraline mentre il 60 e il 130 sono appunto mantenitori caricabatterie ma permettono anche di lavorare sulla riprogrammazione delle centraline in particolare il 130 lo abbiamo detto garantisce di lavorare in tutta tranquillità con i marchi tedeschi e per concludere due importanti caratteristiche ovvero la protezione in versione poli e poi la funzione bat check che ci permette di individuare eventuali celle in cortocircuito durante la fase di carica o mantenimento grazie per la vita